Ciao a tutti, sono Filippo e ragazzi, oggi abbiamo qualcosa di speciale per voi. Nella mia carriera ho avuto il piacere di intervistare alcune tra le più grandi star di Hollywood, ma non ho mai avuto la possibilità di intervistarne, beh, una così grande. Blu, grazie per essere qui. Grazie per l'invito, sono così euforico! Perché non iniziamo dicendo ai nostri ascoltatori, beh, perché non diciamo loro chi sei, cosa sei? Sono un If! E If sta per? Noi siamo gli amici immaginari, abbiamo scelto di chiamarci If, con noi tutto è possibile! Ah, sorprendente, cioè sei un amico immaginario, ma ce ne sono altri di voi? Oh sì, tanti altri, cioè quasi ogni bambino ne ha uno, ne aveva. Aveva? Quindi vuoi dire che non li hanno più? Oh no, ce l'hanno! Non li abbiamo mai lasciati! Noi ci siamo sempre per i nostri bambini, qualunque cosa accada! Ma i bambini poi crescono e quando questo accade non possono più vederci! Oh no, questo è molto triste! Oh sì, per un po' è stato triste, ma poi abbiamo capito! Capito cosa? Come convincerli a vederci di nuovo! Davvero? E come ci riuscite? Oh no, niente spoiler! Dovrai vedere il film! Hai ragione, hai ragione. Vabbè, parlando del film, è stato divertente recitare. Stai scherzando? È stato veramente divertente, magico e buffo! Allora Blu, cosa ti aspetti che la gente si porti a casa dopo aver visto questo film? Cosa speri che ricordino dopo aver lasciato le sale cinematografiche? Che nessuno è mai solo! Che il vostro if è sempre accanto a voi! E tutto quello che dovete fare è voltarvi e vedere! Vedere cosa? Che non si è mai troppo vecchi per essere bambini! Beh gente, l'avete ascoltato in anteprima e io sarò il primo a tornare a casa immediatamente per cercare il mio if!